Oggi testeremo la velocità delle nostre dita e vedremo chi riesce a chiudere il maggior numero di app Vai, inizia tu Stai zitta Eh, intanto ti cambi Guardami, 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 Flash mi chiamano all'asilo Eh, ci vedo, sì, Flash dello schifo Sì, Flash Girl Pronto? Scusa, scusa Devi mettere giù Sto giocando, eh, ho capito, mi fa perdere Eh, ma devi mettere giù Eh, ho capito, mi fa perdere, chi è che mi chiama adesso, mi chiedo? Ma il filtro Ma il filtro Ma il filtro, ma non ti ha chiamato nessuno Ma svegliati Mi chiama Ora tocca a me, ti faccio vedere come si vince tesoro Sì, vabbè, barando Guarda, ma barando cosa? Sei tu che ti metti a rispondere a un filtro? Ma cosa vuol dire rispondere? Se mi chiami educazione rispondo Ma cosa c'entra? Devi mettere giù Sei maleducato Ma non è questione di educazione, è così che si vince Infatti ho vinto